Sì, abbiamo portato a casa un bel risultato grazie alla collaborazione, lo dico subito, di Enel Green Power, ma anche di associazioni come la Lupus in Fabula, il Club Mattei Protezione Civile e soprattutto la neocostituita associazione Passeggi Canale Albani, costituita da un gruppo di cittadini che si sono messi a disposizione per raggiungere uno degli obiettivi che l'anno scorso come amministrazione comunale avevamo lanciato, che era quello di poter riportare in condizioni di sicurezza e di benessere gli anatidi all'interno del Canale Albani. Il 30 di luglio infatti, insieme all'associazione, insieme ai soggetti che ho richiamato, porteremo ufficialmente un gruppo di una trentina di anatidi per ripopolare in maniera ovviamente programmata e controllata, quello che è appunto quella che era la colonia faunistica del Canale Albani. Noi procederemo come Comune di Fano un'ordinanza per vietare invece l'abbandono di cibo lungo il Canale perché in passato questo ha prodotto dei problemi importanti soprattutto rispetto alla proliferazione dei ratti. Contemporaneamente come Comune di Fano abbiamo intrapreso una serie di azioni importanti comunque di manutenzione dell'area in collaborazione con Enel Green Power. Nei giorni scorsi abbiamo ripulito di circa 50 quintali di ramaglie il corso del canale, abbiamo predisposto le postazioni fisse di deratizzazione in tutta la zona, abbiamo realizzato gli interventi larvicidi nelle caditoie di tutta la zona dei passeggi del Canale Albani per contrastare la proliferazione delle zanzare, questo proprio per garantire quest'anno la piena funzionalità dei passeggi e soprattutto per poter rivedere il parco cittadino dei Viali Mazzini animato nuovamente dai suoi ospiti.